Buon mercoledì 4 gennaio. Posare lo sguardo, incontrare lo sguardo, accogliere attraverso i sensi una chiamata, rispondere a una chiamata, essere disponibili a seguire. Questo è quanto oggi il Vangelo ci ricorda essere l'essenza di una fede che non è opera di una nostra scelta razionale, ma è accoglienza lasciarsi andare a un incontro casuale che accade, che Dio stesso fa accadere. Il figlio dell'uomo, il figlio di Dio è tra noi e ogni giorno abbiamo la necessità di accoglierlo rispondendo alla sua chiamata, che non è un nostro merito, è una realtà che tutti i giorni siamo chiamati ad incontrare, ponendoci con un atteggiamento di disponibilità e di apertura. Così si esprime Papa Francesco che ci ricorda che nella molteplicità dei nostri progetti di vita siamo sempre chiamati a porre attenzione, qualunque sia il nostro progetto di vita, al Gesù che incontriamo, che è tra noi. E Papa Francesco afferma così, nell'Angelus del 17 gennaio 2021, e 21. Fermiamoci un momento su questa esperienza dell'incontro con Cristo che chiama a stare con Lui. È un incontro di chiamata a stare con Lui, a vivere l'intensità della vita comunitaria con Lui. Ogni chiamata di Dio è un'iniziativa del suo amore, non una nostra iniziativa che spesso riteniamo di essere noi, coloro i quali si fanno protagonisti di una presunta civiltà cristiana. Siamo noi che vogliamo, in tutti i modi, colonizzare il prossimo, e però non ci facciamo attenti a cogliere la scelta di Dio che nasce dal suo infinito amore. No, anteponiamo la nostra volontà, non ci lasciamo andare alla volontà di Dio. Sempre è Lui che prende l'iniziativa. Vedete, questo è un punto fondamentale, perché se è Lui che prende l'iniziativa noi siamo semplicemente chiamati ad essere attenti, giorno dopo giorno, istante dopo istante. Lui ti chiama. Dio chiama alla vita, chiama alla fede e chiama a uno stato particolare di vita. Vita, fede, stato particolare di vita. Universalismo, particolarità della fede e all'interno della particolarità della fede la caratterizzazione di uno stato particolare di vita. Io voglio, lo voglio, io voglio te qui. In questo momento, questo esprime l'intensità dell'amore di Dio. La prima chiamata di Dio è quella alla vita. Prima di tutto Dio chiama tutti universalmente alla vita, con la quale ci costituisce come persone. Tutti siamo persone, indipendentemente dal nostro credo religioso. Dio è uno, poi c'è una molteplicità espressiva. Ma questa universalità di chiamata alla vita ci pone nella condizione di essere tutti persone, ugualmente degni di essere rispettati. E' una chiamata individuale, perché Dio non fa le cose in serie. Anche questo è un aspetto fondamentale, che ci allontana da quel collettivismo insensato, che annichilisce la dimensione individuale, soggettiva, che non rispetta la persona, ma quella chiamata, fa sì che non siamo noi come persone i protagonisti, noi siamo i chiamati ad attingere al sacro. Come ci ricorda Simone Weiland, bellissimo testo, la persona è il sacro. Poi Dio chiama alla fede e a far parte della sua famiglia come figli di Dio. Siamo chiamati in primis come persone, poi siamo anche chiamati a porci nella dimensione dei figli di Dio. Infine Dio chiama a uno stato particolare di vita a donare noi stessi nella via del matrimonio, quella del sacerdozio o della vita consacrata. Fa degli esempi, in questo caso Papa Francesco, sempre e comunque in ogni caso, in questo particolare stato che caratterizza la nostra esistenza, siamo chiamati ad accogliere quello stato della vita che caratterizza la vita stessa e la fede. In ottemperanza all'infinita misericordia e all'amore attraverso il quale Dio ci fa partecipi della sua famiglia che è universale, che riguarda l'intera umanità. Sono modi diversi di realizzare il progetto di Dio, quello che Lui ha su ciascuno di noi che è sempre un disegno d'amore. Dio chiama sempre, chiama sempre nella dimensione dell'amore. E' quello che troviamo nel Vangelo di oggi, il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse Giovanni sta con i suoi discepoli vede passare Gesù e dice ecco l'agnello di Dio e i suoi due discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù. Basta poco, ecco l'agnello di Dio e i due discepoli che sono con lui seguono Gesù. Siamo capaci semplicemente intravedendo Gesù a farci protagonisti di una sequela del suo merciaggio di salvezza è una domanda che ci dobbiamo porre ogni giorno. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro che cosa cercate? Gli risposero Rabbi che tradotto significa maestro dove dimori? Disse loro venite e vedrete. Vedete Gesù non risponde dove dimora chiede chiama un movimento venite seguitemi e vedrete fidatevi affidatevi lasciatevi andare a questa dimensione della chiamata andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui erano circa le 4 del pomeriggio anche una grande precisione addirittura di orario per sottolineare la concretezza dell'incontro con Gesù uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea fratello di Simon Pietro e gli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse abbiamo abbiamo trovato il Messia che si traduce Cristo e lo condusse da Gesù fissando lo sguardo su di lui Gesù disse tu sei Simone il figlio di Giovanni sarai chiamato Cefa che significa Pietro Gesù ci chiama ci dona la bellezza del nome in questo caso addirittura cambia quel nome Simone Pietro che rappresenta simbolicamente proprio questo modo di porsi di Gesù nei nostri confronti il quale ci invita a seguirlo e a vedere e noi dobbiamo esattamente fare come hanno fatto quei discepoli i quali poi riverberano fanno rimbalzare la domanda posta dalla chiamata a quanti stanno intorno a noi e diventiamo in questo modo testimoni di coloro i quali sono disponibili a rispondere alla chiamata che Gesù ogni giorno ci fa buona giornata a tutti